Agostino è uno degli operai forestali della regione Molise, si lavora 151 giornate da febbraio a novembre. Com'è vivere in questo modo? La situazione è una situazione di precariato e nello stesso tempo abbiamo un po' di mesi, 3-4 mesi che stiamo fermi qui senza alcun salario. Ci sono persone tra cui anche io che percepiamo per questo periodo una disoccupazione agricola però comunque sono ben poche, non bastano per tirare avanti. Si fanno i salti mortali? Ecco, si fa come la formica, bisogna metterle da parte e man mano farsi bastare quei pochi soldi, quei soldi che dobbiamo prendere. E quindi niente, poi c'è anche l'altro problema che ben spesso non prendiamo lo stipendio, non si mente e dobbiamo anche aspettare mesi, due, tre mesi per avere le nostre pensioni.